Siamo giunti a quella che è la nostra terza parte del main show di Survivor Series ragazzi un evento stratosferico. Sì, il brutto sport è cattivo, come direbbe il prototipo. Ma vabbè, fa perdere. Terza parte che si apre col match per il tutto peso di due ore in fallo, dove Brian Radley dovrà difendere. C'è un feeling che si è messo in gingery stasera, vabbè. Eh sì, c'è un feeling, la cosa ti c'erano presi la serie, con tutto quello mio figlio, eh. Sì, con il tuo zio, dai. Con lo zio. Gli donna un pochino gli donna un po' dai, con la divisa da combattimento. Ancora un po' dici. Eh? Ancora un po', dai, ancora per un po' potrarti finirla con la, con la questa tire, poi dopo la dovrà buttare al cesso. Gli donna un po' dai, sì, dunque. Ecco, mamma mia. Vedremo se stasera Sean Filly chiuderà, vedremo, vedremo. Guarda, sono lì, guardano lì, guardano lì, brutto sport, capito. Mamma mia. Eh sì. Mamma mia. Oh. Sean Filly, dunque, contro Brian Radley, ragazzi. Eh? Non ho capito. Lo vedo, lo vedo abbastanza carico Sean. Eh sì. Ricordami una cosa, il fattore fa. Eh beh. Quello, dovrebbe giocare a sfavore di figli, eh. Quello sì, sicuramente. Eccolo lì, Brian Radley ha scoppiato così da, guarda, questo tipo di uomo di, eh, non so, di scarto umanoide di nome Isma Nasa. Sì, Isma Nasa, ragazzi, eh, beh, d'altronde fanno parte della Young Corporation, i due. Eh sì. Però dai, però se non è giusto che Isma Nasa stia lì a rompere le balle in un title match in un title match è così importante. La corporazione, la corporazione giugna è giovane. Sì, proprio. Eh sì, proprio, in effetti. Eh. Ehm, che bella boiata qua di Boy Orton, cioè, veramente, si, fai un match però, il Smanaglio quino, poi, non fare le balle a Bordo Ring, eh. Sì, in effetti. Perché, dai, qui è come fare un gioco contro uno alla fine dei conti. mamma mia eccola qua la nostra cintura eh si braverà i ragazzi campioni da Clash of Champions se non sbaglio né da giugno eh si quasi un anno no sei mesi metà anno si cinque mesi forse si quasi cinque mesi forse adesso si che se stasera dovesse arrivare a Sean Philly potrebbe arrivare NXP cover di End senza avversari eh in effetti beh beh diciamo che diciamo che bisogna vedere anche la draft perché tra quattro giorni avremo anche draft lotter quindi sì beh quello è vero magari un po' leggero che va da settima che si è un roster però ora come ora la ZN si dice se batte non è che ce ne siano tanti eh infatti eh sì perché non c'è perché non c'è ci va CX vi applica no in effetti si vede battivi si vede battivi lui si può partire ragazzi mamma mia e se non è che cosa fai l'ebrae arabe è stata una capigliatura di certo guarda eh sì si sembra un po' più corti i capelli comunque si parte clincia con Sean Philly che lo lancia via Sean Philly lo vince è un po' più non fisicato però più più agile anche quindi allucinante vera ho capito come vuol fare qui no niente da provare forse sobrocchi da peking di Sean Philly bello qui mamma mia Sean Philly che è una ferita una cicatrice lì sulla schiena è stato un colpo ma diciamo di si infatti oh poi il driver intanto wow eccola lì questo è stato si mamma mia poi continua con la sua monobra comunque la classe non è acqua eh dai avrà l'aspettato però e pur sempre eh ma Isman sa rompe dai vabbè dai Isman inizia già rompere le palle però dai vabbè arbitro bro dai fuori giù e i tuoi brutti sport cattivi sparpellissi in effetti Sean Philly dove va andò a corde oh dio ti fa una cazzata allucinante Sean però dai tu non fai Isman arbitro ma che posso no c'è l'ho visto l'ha preso e l'ha riportato sul ring come dire devi stare in pasto di essere in pasto un pasto delle degli squali deve essere cinque degli squali ma la ma c'è ma scusa ma gg la metà a fatto scusate no perché se non è che me ne è che può toccare l'ho fatto no non lo può neanche ributtare sul ring in realtà eh quindi appunto cioè ti racconti ti racconti un'altra parte delle squali per il testo per me si sarebbe giocato bene per il papà per la propria per la propria per la propria reazione di armi per i piedi e' sì appunto e' ancora esmalata a rompere il balle però e' forse giocato se l'idea ha mandato un bel po' chiamano ma ecco portato appare legge in giro ma mamma mi cosa fa tutto non provare il volizion adesso, non provare il volizion adesso BOLLA FLAGAMBOS SPECIAL io ho paura ecco che... ooooh c'è che music mamma mia ragazzi su c'è musica ce l'ho ce l'ho deviata bella bella questa risposta di bryan non è che c'ha dei geni di fili in corpo BOLLA FLAGAMBOS ooooh te ce l'ho fatta che ti apra, niente da fare o forse con segno, brava segno, pittaggino chiaro che capi e Shofili dove va? Shofili si aggancia si aggancia alle forze ooooh mamma mia va fuori dal re mamma mia ragazzi è una questione anche personale questa eh non è l'alte di Usman via fuori dalle palle dai c'è voglio dire c'è tu vedi il notatore ai liberi o devi un po' oh ma che c'è uuua aia 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 qua intanto bravo e ha dispellato una manovra incredibile uuuh ecco se c'è 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 l'unico quando la costare contro le proprie eh si eh beh però un match abbastanza equilibrato non è fino adesso eh cioè non è che trovi se diciamo che c'è un fine ci avesse 10 uuuh 10 anni meno secondo me darebbe la paga e ovviamente qualcun discorso c'è male e giustamente non bastava si ma guarda braille rali si accontenta di una vittoria che sarebbe conteggio fuori ma si ma la paga dei corti anche lui ma che gliene prega si infatti e chi è questo figlio mio no no chi è il rally attenzione oddio vuolo qui mamma mia mamma mia e poi può andare con il friend of the smash una volta se lo prende eh si è andata è andata e ora nooo e vabbè dai dai e Gingino eh Gingino non è arbitraria vabbè non è arbitraria Gingino dai oh ho preso la sedia oh ho preso la sedia e vabbè che fa si ha fatto una un back block fai fino alla sedia eh però va oh si eh si ragazzi oh insomma ragazzi snap super insomma ragazzi devo dire la verità rale sta un po' utilizzando troppo l'arma ismanata eh io tutto fatto facculata con la diritti ciao sembra fino come per dire sono ma tutti sei oh figlio mio che quel colomo li ha vinto 15 titoli che è molto che ti trovi no 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 c'è la condizione no niente 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 c'è la vada che d'avra qua eh c'è la vada che d'avra c'è la vada che d'avra no non l'ha preso è finita ragazzi non fare più per te uno 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 perchè mi muore per due scatti in faccia io, sai di quelli violenti? si ma è sbanasa ohhh con lo scrivo il monsolto qui ohhhhhh ohhhhhh eh povero lo schicco oh che c'era eh no che ho finito in cerca di giocare 1,2 1,2 1,2 1,2 mamma mia 1,2 1,2 ohhh il braccio di soccorre è devastante direttamente all'inverso però perchè il figlio di arco attenzione uuuuh un'uomo un'uomo da tex d'orin è finita qua randoski che ora forse ci sarebbe anche la distanza per la rave si mi sembra rave eh no per il piacere se la vada se la vada se la vada non gli piacevo come cosa no 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 tu can tu can con la maschera di sangue tu già hai fatto il fatto si in effetti e ora su e ora tutte e due sanguinano ragazzi mamma mia hai visto come la ho fatto all'angolo il candelli mamma mia ragazzi uuuuh eh si olè il ritorno del vecchietto mamma mia veramente veramente ragazzi e poi anche per crossface vediamo qua crossface eh ma ha il piede sulla corda eh bryan l'arbre non l'ha visto potrebbe cedere bryan qui crossface crossface il rischio il rischio non entra niente no 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 è arrivato è arrivato si va bene è arrivato è arrivato è sicura di merda il palazzo veramente si ma ora c'ha finito di occuparci anche di smalazzo non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo ah l'hai preso grazie 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 Gesù che ogni tanto ti fai vedere eh mamma mia mamma mia eh proprio ne approfitta mamma mia ma che figura di merda no dai veramente no no questo è uno Sean Fili bravo a me ragazzi fisicamente 50 anni ma mentre avete è a 20 sì però Davide il problema è che ha perso tempo adesso eh sì schemi tutto qua è intervenuto in casa uno due e ancora oh Isma hai rotto le palle però eh dai ma veramente eh eh infatti l'albero non so se l'ha cacciato? vediamo un po' eh spero di sì eh spero di vedere perchè il bisogno come la radio e... in effetti eh però qua aprile ne approfitta dai dai nooo dai che bastardata scusate un po' mi sento un'atmeritata però il managgio è veramente rotto i coglioni dai dai vai Sean su c'è music dai che è tutto duo Brian non sei d'accordo con me creep across the earth scusami è finita è finita è finita nuovo campione dai nuovo campione eh Brian riesce in qualche modo eh vabbè eh no no meno male l'albero ha cacciato gli smanati veramente eh ma eh però qua eh 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 che scattivo vediamo no no un calcione dietro il ginocchio per il suo filo è finita è finita RANDO SKICK è finita dai manca la vada però si uno due non c'ho più lice mamma mia che famiglia ragazzi c'è questo che sono 50 anni eh anzi è poi più di 50 anni però vabbè ancora ancora maarnaca ah carcere il ginocchio imperiale swing in ebbraker mamma c'è un figlio oggi oggi vuole fare di chiedere il nico non rischia ok almercato a fare l'amore il capitolo dai ciao per farla sui cibili testi però magari non farti sentire che noi ma non se la senti è stanco, è stanco qui è l'età pare il colpo pare il colpo back drop back to black ecco lì e va un colpo suci music siiii lì il pericolo non ci credo il sogno però troppi riparata la cagata internazionale mamma mia e qui testa aspetta per preparare dei siri pizze non vuole volare eeeh brutta idea brutta idea brutta brutta fatica eeeh brutta idea eeeh brutta idea e ma shon devi chiuderlo shon devi solamente chiuderlo si vai col pedigree con la cc music verranli se no se ancora due minuti brava per le tigre nooo mamma mia mmm non lo so ma ancora non si fermo seee dai eh sbaglia 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 no c'è la cazzola dei coglioni no no stai flippo no no stai flippo non ci credo no non ci credo uno due no due no meno male mentre l'abitro non vedeva shon ha molato eh ma c'è qui randoschica ciao 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 nip ooooh mamma mia rilero da fermi mamma mia ragazzi devastante devastante qui braille rally penso che abbia il match in punta piazza L'ha entrato nel ring due volte L'ha buttato nel ring praticamente Ma che è sta cosa? Io adesso mi aspetto un bollotto e te lo sanzioni C'è un mese diiii O due diiii O due diiii Ma che è sta cosa? In effetti in effetti Guarda qua C'è entra nel ring Attacca il contendente C'è Gianni C'è Gianni Si fa la qualifica Eh dai Eh lo so Però non era una situazione facile per Gigino Lai, la come si chiama Quindi E vabbè ragazzi Brian Rally resta campione Pesi leggeri con molta fatica però Dobbiamo dirlo Ha provato 18.000 magheggi In mezza nata però Diciamo che è ancora campione Qui intanto abbiamo Matt Curtis con Eccolo qua Max Cougar Che cambia il tuo vestito Si Eh si a quanto pare Blu e nero Eh si Si Oh, stasera avrà una chance per dimostrare che non è un fallito Eh Deve essere finito E Io sono finito Chi è che ti ha detto con le cose del mio conto? Beh diciamo che tanti ne parlano Nel senso che Cougar è vero campione Pre campione europeo Quindi non possiamo neanche dirlo Aspetta sto solo facendo il messo Ma Però dopo vai affrontare gente che mi pare molto Eh Delle persone molto Eh Eh Si certo Le dici No Non ho bisogno di Bart Il Devalet è come lo bat Si Cougar era molto Molto arrotante Si dai Vabbè ragazzi Noi vi lasciamo gli ingressi Dei sei partecipanti Di questo tre controllo di animazione Tra Team Genesis e Team Civilization Torniamo tra poco La prossima La prossima La prossima ...match... ...from Cocoa Beach, Florida... ...weighing in at 252 pounds... ...Promi! ...the atmosphere inside this arena for this one... ...is absolutely insane, guys! ...and if you think this is insane... ...just wait until this thing kicks into high gear... ...you ain't seen nothing yet! ...I still love this guy... ...and from Tucson, Arizona... ...weighing in at 239 pounds... ...the European Champion... ...Max! Byron, are you at all surprised by the intensity level... ...inside this arena right now? Not in the least bit, Michael... ...this is the one that WWE Universe has been looking forward to... ...for quite some time! ...is you guys excited to play around? In the meantime, I'll be right back... ...my football team... ...oh yeah... ...the most beautiful game... ...there's no more game... ...and, but... And from Shreveport, Louisiana, weighing in at 342 lbs, Buckley Ultimate Buckley. If you like action, this six-man tag team match is for you. You can say that again. We're looking at six of WWE's most exciting superstars all in one match. It doesn't get much more exciting than that. I can't understand when I look at you. I feel the stormy in your mind. When we're dancing, the night begins to shine. The night begins to shine, the night begins to shine. The night begins to shine. When we're dancing, the night begins to shine. The stormy in your mind. The night begins to shine. The night begins to shine. The night begins to shine. And at a combined weight of 915 lbs. now, Gia Nugtai, Trevor Morgan, and Ryan Bacon. Guys, this one promises to be absolutely amazing. But as they say, promises are made to be broken, Michael. Though in this case, I think we're safe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sono anche orgogliosi eh non è che so anche però non mi vorrei trovare in una gangbang con il 3 della darkness family a pochi gli schemi che le prendo sì però se il match riesce a ufficializzare il match in qualche modo con boy orton no in quel caso ryan o torro stesso tempo dovrebbe accettare guardate c'è den valentine non dico che abbia una difesa mamma mia povero romeo dai io avevo aspettative per sto giovine ma si continua così la vedo male però non campione europeo per due settimane ha perso contro bugara ha perso non lo so se non si sta imbattendo troppi nemici pericolosi e quindi deve stare un po più cauto servirebbe a romeo secondo me ora come ora un giro nei piani basso secondo me che con calma al tempo di crescere un po poi magari se vuole provare piani più alto ovviamente però buttate troppo secondo me nella messa con i grossi nomi per certo adesso questo meglio è un'eccezione che è sì ovvio teardrop suplex bravo romeo però devi seguire la spia se vuoi vincere perché contro questi con queste mosse secondo me non è che li fa tantissimo con del valente non so se la spia serve no una no è prezzato meglio eseguirla e dice romeo c'è la 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 distanza troppo distanza no troppo distanza ho detto no ben valente come fatto qui stava stava morendo al suo club ma stava morendo è quello che ci domani quello che ti sei che hai creduto te del manito non è che muore così è veramente questi tre sono dominazione 2 e 25 sale schiariamo 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 più schiariamo i grossi calibri ora è in tutto il senso è ma da volte non ci credo se va incredibile c'è ma questo non subisce niente è no parte però dice era basta comunque è comunque l'estermati è che è vero non è vostro però poco ci manca sembra anche grossissimo ragazzi è un mostro umano oddio no no la palla di valentino bella palla calcione dritto per dritto super il verità il problema davide che non sono mosse che fanno male cioè parliamoci chiaro marty bella mo bella da vedere però è da franco stamosa da steven tibia fanno migliorare parte di un segnato a te la palla la nightmare carter c'è mamma mia e ancora non eseguita la natura di raggio degli incubi si mamma mia fransiere con eseguito una nightmare mi ricordiamolo mamma mia e ryan ancora non è entrato c'è probabilmente è stato un 3 contro 2 però il 3 so quelli di situation che stanno in difficoltà non si infatti è bello è questo capito che poi togliamoci chiaro non è che sta facendo chissà quale oddio 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 no 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 fa fuori barbari forse in qualche modo si è coperto eh infatti guarda si reazione reazione di barclay mamma mia se fosse stato se fosse stato cougar davide sarebbe stata la fine si sarebbe probabilmente morto sì barclay in reazione vediamo qui se poi non abbiamo neanche il mio coro è perché ora come ora perché mi spettino dico dominato però un pochino ci manca dai vediamo un bello spezza schiena bellissimo ecco questa è una mostra alto impatto è quindi problema che non soffisce c'è c'è questo è imbattibile vediamo se entra ryan forse no tor c'era io andavo dicevo tu statene fuori tanto ci abbiamo bisogno di te sembra di fare così c'è c'è cipo odio 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 qua che si usa come non lo so no qua si dice parte neanche così sai vincere si è si parla di tutto attorno dica che non è che sia massimo della vita ma questi boh io non so se non sono mostri più c'è qualcosa che va oltre infatti e ricordi che ribadiamo no vabbè dai no mamma mia te l'ho detto che sono anche furbi è comunque sia mamma mia vorrei che fosse un piano che coso ryan entri per ultimo per fare lo sprint finale se serve perché secondo me qua non serve neanche lo sprint finale vabbè ho detto sprint più o meno il frattere del genere lo sprint lo vedi difficile ci lascia non ci lascia che ha detto sono io non lancia sul gatto oggi la c'è solo uno si è un senso unico sto messo dai quelli di simili sono odio odio no, no, no pacchetto di battle mamma mia coraggio battle mi pensi se ci lascia il capitano per primo mamma mia 1 dove vai romeo? romeo dove sei? romeo dove vai? oh romeo no, no ho capito che vuol fare ho capito che vuol fare no no oh dio mio ancora no, non dirmelo se l'immagine avremo un figlio tra romeo e barche che c'era giusto che l'ho bollito oh, guarda il cambio eh, entra Kuga eh, entra Kuga entra Kuga tutto è butto tutto è eccitato ancora torsi rialza ancora ma Kuga è ancora ma Kuga è ancora romeo vai fuori per rin però romeo fuori nel ring anche perché rischia la squadifica eh se resta nel ring che fa sei fatto sì però se ne più di attorno bravo romeo eh, finalmente eh, non vorrei che romeo eh, sì che Kuga però l'avessi presa male eh no, anzi anzi io penso che ne sfrutta la situazione che gli frega a lui cioè Kuga è uno così è che prende tutto vai eh eh tu gli dai la mano e gli si prende il braccio oh, una nuova abbastanza è entrata ecco che comero mamma mia c'è un piccolo problema di nome torre eh ecco sì infatti eh sì è uno di nome ryan che non è ancora intratto anche oh intanto lo fa sanguinare torre sì più o meno andiamo ah 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 mamma mia valanga valanga cora prego c'era meglio che non entrava Ryan a questo punto ero meglio del valentine un po' più in effetto oh the slinger the slinger the slinger mamma mia ma qui no finita uno due e tre no beh coover messo malissimo eh dopo ste mazzare di Ryan coover se non dà il cambio è finito è finito però è il primo che ci lascia pure di nuovo mamma mia sì ma tu hai visto una mossa combinata tra quelli di civilization no sì l'ho lasciato via continuare come fa come è possibile se ryan vabbè ma è freschissimo adesso ryan di nuovo 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 cubano di nuovo di nuovo di nuovo che gira no no oh no oh no oh no oh no oh no oh no mamma mia se non intervengono due di civilization qua è finita eh uno due oh grande romeo a fatico ormai è entrato nel rinforo eh eh ma adesso devo fare dalle balle e adesso l'uomo legale eh eh ma eh ma il problema ora è che ci deve fare il time ring allora il team civilization si può salvare davide si può salvare se sono ancora in tre se ne manca una fine perchè già non c'hanno speranza come può salvarsi che non no no non ho preso ecco appunto ecco ci per cui è finita eh penso di sì c'è 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 mi sa di sì no ha persi i sensi ha persi i sensi non ce la fa più ecco infatti Barclay eh no ha ceduto proprio allora forse che ha un po' tecnico forse direi eh vabbè oh vorrebbe vedere cioè non so lei ma una presa del genere probabilmente mamma mia Barclay ora devi sfruttare tutta la sua la tua potenza se vuoi meno portarsi sul pareggio però la vedo dura sinceramente deve deve fare qualcosa perché sennò qua non non andiamo da nessuna parte no eh Barclay può tenere te sì ciao io ho coso una cacca no no grande Barclay grande Barclay forse non ha voluto esagerare noi parliamo parliamo però secondo me se nella d'art nella daphne spenni elimini del vale sono finiti beh sì oh mamma mia proprio un bello però il problema è sì secondo me parte ha capito che è the maintain il problema numero uno principale cioè gli altri non è che sono piccoli però sono battibili oh bella questa battibili nel senso che sono più facile a battere aspetta vediamo Cougar è ancora lì al lato del ring no no è stato è stato eliminato è stato eliminato dici sì sì tanto che fanno oddio oddio mamma mia si qua ci lascia anche Barclay qua il ring collassa eh ragazzi tra poco sì mamma cioè io non avevo mai visto Barclay usato come un sacchetto dell'immondizia promettimi il termine Barclay is used like a trash dai almeno così ci capisco anche i segnali a box mamma mia come per me oraccio ma tu mamma mia mamma mia guardate il valestine cioè si bea nell'immagine dolorante di Barclay mamma mia oh 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 riesce neanche a usare una DT cioè a figare una DT oh se Barclay batte l'uomo più forte della KBWF la vedo male cioè per te l'uomo più forte della KBWF chi è? The Mountain no eh Buckley ah Anthony no se Barclay riesce a battere l'uomo più forte no Barclay se Dan Valentine batte Barclay che è l'uomo più forte della KBWF qua penso sono ecco sono azzi amari per tutti mi sai in effetti vediamo se lo fai eliminare dal capo no entra entra Ryan uno due e c'è Romeo e qui Ryan ha fatto male la guardia si eh si però quegli altri sono tre no adesso ho un tre contro uno praticamente perché Romeo è fuori in sé diciamo che Barclay è più di là che di qua ma non vorrei dire oh bello qua si diciamo di spezzacoli tre contro mezzo si oh qui per due belli suple no e tu bello suple si mamma mia mamma mia ragazzi si non sappiamo neanche noi cosa dire perché a parte alcune mosse è abbastanza una mattanza si però barclay forse da quando entrò barclay con Thor le cose sono un po' equilibrate eh forse Thor si è vero Thor può lasciarci e con barclay è la verità eh ma se ci lascia allora il match eh non dico appena favore di civilization in quel caso però è un vantaggio è un punto importante ti devi mettere in conto che abbiamo ancora un Ryan fresco eh eh il problema è quello eh eh ecco addio Barclay che non ha fatto niente no gli attivi mosse di coppia derivato da Barclay mamma mia mamma mia non c'è comunque ora come ora sembra non esserci storia fra le due squadre mamma mia si perchè oh no questa è Slam che si splash spetacciata il cavolo sto dicendo in più 1 2 1 2 Romeo rimanda oddio ma ecco si cosa fa la forra questi sono psicopatici maniaci no di tutto no non si è visto è sociopatici guarda oh no 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 eh beh il capitano dai non può cedere le armi così eh lui da quello da quello da quello è l'amatori amica vediamo si ma cugara che finaccia che ha fatto eh se non lo hanno ascoltato eh se non lo hanno ascoltato eh se non lo hanno ascoltato tanti proclami si e poi si però ragazzi ma ben male comunque gli ha fatto l'abbraccio l'abbraccio diciamo amoroso di Genvale in Italia veramente io me la porto i primi ma dai forse eh si Romeo torsava cercando di ribaltare la situazione però si comunque se ci fossero tre gameplay nel Team Civilization allora le cose sarebbero cambiate potremmo sperare a vincere forse problema che Romeo ma non è colpa di Romeo eh perché è giovane e talentuoso e è un problema che è inesperto però eh si lo sai lo sai lo sai lo sai trucchi del mestiere che potrebbe sapere un barco va in coppia dai questa match di squadra eh non è match singolo quindi si è fatto guarda e Ryan sta ancora lì fuori come per dire tanto alla fine lo mandiamo lui dentro gli spacca mamma mia ragazzi se noi decidiamo prima noi però quel problema mamma mia De Valet vediamo se eseguirà la Nightmare su Romeo che non l'abbiamo ancora vista mamma mia De Valet lo lancia mamma mia De Valet mamma mia o se dovesse tornare Apocalypse come cavolo fa a battere questi tre no veramente io vabbè vabbè probabilmente i match singoli si però poi a me aspetto il match finale contro De Valet dai Apocalypse contro De Valet sarà un match cioè a me sarà un match di quelli cioè veramente sì ma Apocalypse deve tornare quello quello di un tempo stile Frankenstein non so se ti ricordi quando aveva servito il loro poder eh si vabbè bene Romeo forse forse one night stand non ci giureremo forse potresti provare uno schienamento e forse De Valet adesso è un po' stanco eh ovviamente dopo me a mezz'ora di me posso dire che ha fatto non dico fatto lui tutto il match però ha fatto tanto eventualmente e si vede che ha fatto tanto perché dai risultati raggiunti fino adesso è qua che ancora ti lascia ancora Ryan fuori no che fa adesso attenzione che finita oddio no no vabbè oddio eh romeo romeo d'eltego romeo bravo sprint eh 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 ma Barty è stanco perchè lui non è abituato a questi match così lunghi dai normale sì anche se non ha lottato sempre però oh mossa di Co altra mossa di Co oh uno in De Valet e si porta si porta sul 3 a 0 3-1 si mamma mia 1 2 no no grande Barclay grande Barclay eh ma che prezzo grande Barclay grande mamma mia eh ma grande a che prezzo adesso se ne cucca l'alpha amici si si entro entro stavolta si cucca questa però mamma mia mamma mia la spetacciata con Neckbreaker incorporato e non hanno finito eh vabbè dai eh no Barclay non c'è storia dai in qualche modo no 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 non c'è storia dai oh c'è tagliato Barclay non c'è storia dai no no io l'ho sempre detto che non c'è la storia se i 3 di simile la colpa di chi è? la colpa di Christopher pranzo che sta pensando alle sue questioni personali piuttosto che queste cose e guarda questi si divertono e Christopher io posso dirti posso dirti la vera dai io spero che il team di John gli faccia al culo a quello che Cristo sì veramente c'è la c'è un piccolo problema c'è un Mike Emmett di mezzo però se togli Mike Emmett Mike Emmett non è Dan Bainten eh gli errori li fa molto di più quindi quindi no beh Dan Valletta è comunque facci caso essendo grosso è anche fottutamente agile guardalo ok magari non agilissimo vabbè è agile per la sua stazza beh sì in effetti oddio oddio dai chi Barclay è finita qui si è piccato un trippito qui va all'ospedale eh una trifletta di mosso di coppia incredibile ma Barty va all'ospedale non hai capito insomma me sì vorrei vedere mamma mia Ryan aspetta nel momento propizio per tentare la sua mossa finale probabilmente vediamo se l'inzaina no cosa fa lo ghilo mamma mia lo ghilo finiamolo perché giustamente sai povero Barty mi aveva accendito abbastanza pure Barty c'è ancora Barty c'è ancora cerca di tenere alto l'orgoglio di civilization anche se eh anche se insomma la vedo male eh la vedo molto molto male una testata sulla ferita Barty non ce la fa più Barty diciamo che ha cercato di come posso dire contrastare tutti e tre i mostri però è troppo anche per lui questo si sta si sta comportando davvero capitano per controllare la resistenza però è mancato secondo me come gestione eh si infatti e poi anche alleanza c'è veramente Chris personal ha lavato le mani Chris verano di frega niente di civilization beh che credo si sia notato anche perché diciamolo il suo match prima del 2020 si c'è un piccolo spoiler quindi quindi ma poi ha mandato due che non ama come Romeo e Barty e uno che insomma non dico che disprezza però come Cura però di certo non lo ritiene se non è l'altezza della situazione oh dai Barty che forse riesce Barty a fare qualcosa su eh però è stanchissimo l'ho fatto dal tag a Romeo per un attimo minuti di pausa eh però oh Romeo qui che fa oh dai Romeo io io tu tu bella bella dai 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 eh però per finire giù Ryan è forse però Ryan è l'anello debole Spirno si Spirno eh se cavolo eh sul cavolo vabbè è anche più fresco però dai eh Ryan dai vabbè non ha fatto niente cioè diciamo che ha iniziato a combattere a Rezzo Ryan ecco bravi bravi datevi il tag fate bene ora entra Barty eh c'è più squadra fra Romeo e eh Pugnato 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 devi anche provare lo schienamento eh perché eh ancora Barty è stato c'è i muscoli lentissimo c'è il lattice è finita c'è l'acido c'è l'acido lattico nei muscoli c'è l'acido 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 i dettagli mamma mia mamma mia c'è l'acido neanche sta mossa però mamma mia è finita ragazzi è finita è finita dai andai a casa manca la chokeslam manca la chokeslam no niente Barty si ancora però sì però Barty mamma mia ragazzi Barty non sta qui in piede non so come cavolo faccia a reagire ancora mamma mia eh perché è l'orgoglio è l'orgoglio qualcosa eh lo so però che va oltre capito eh lo so però eh adesso qua se ne c'è quante ce ne è beccate Barty vista il problema adesso lo sa cosa è proprio anche ora torneranno a civilisation perché tanto perdono torna civilisation con la coda tra le gambe c'è torna civilisation con tutti gli altri con tutti gli altri che diranno l'ester banchi è un capitano del cavolo ci ha portato alla rovina di quella della e io se fosse essere banchi dire ma perché non avete tirato fuori coglioni e siete andati a combattere meccopro la dalle sfervi dato che parlare un alto ma perché purtroppo presto a fare lo so però voglio di però non può tirare in mezzo altri lottatori non può dire noi siamo andare a lottare contro la dalle sfermi in quelli dicono non c'è prove che non potevamo battere alla fine bar che può dire ecco può dire che alla fine non li vuoi dire poi niente in realtà sì perché poi alla fine vediamoci che è stata anche la mancanza di contatti con cuba e gli altri direi soprattutto per non guardare lei è perché google ha terminato romeo al bartle più o meno squadra la faceva il pubblico questi metti inverni intanto se ci metti inverni e la voce già le cose cambiano ma mi sa che parte se avete fatto anche una bella commozione celebra la forza di studiare lo sai che cos'è che ti vorrei fare berni apocalips e bartley liberamente sarebbe stata diversa la cosa qui intanto ma vedi che anche di gina timore 123 ecco qui direi sconfitta non dico certo di romeo però romeo non pare cagate fatti schienare via dai infatti ormai c'è capito che avete fatto una brutta figura o tutti i due mostri mamma mia l'uomo legale per a torre ovvio per poi cattamento fuori uso momentaneamente ryan e momentaneamente un 2 contro 1 diciamo perché ryan è fuori uso quindi poi entra del male interiore come 1 contro l'ha letteralmente messo giù si direi che fisicamente ci sono letteralmente si è fatta in 12 cibo distruggilo ma è finita dai qui rome non può rialzarsi 1 2 e 3 romeo a non rischiare non rischiare romeo a non fare boiato veramente qua non è che c'è giulietta in paglio eh ma anche se ci fosse giulietta in paglio contro questi tre restamenti giulietta con tutto rispetto a parte ho capito però magari c'è qualche c'è alla fine c'è in paglio sì l'onore del roster ok però alla fine sì ma questi questi ti fanno andare allo svelato con un'opera derrotter no no mamma mia ragazza mamma mia mamma mia oddio cosa ho fatto un po' uno spezzacollo 1 2 2 mamma si romeo però fa come parte di romeo perché se non mi sa che batti ha dato il massimo anche lui vuol dare il massimo la differenza di google no forse per una faccenda di rispetto si rispetto di orgoglio ma non è che se viene schiena adesso manchi rispetto a barca insomma non è una questione di orgoglio mamma mia mamma mia e ribadiamo il fatto che Ryan non ha fatto tantissimo questo match appunto è quello che è sbalordente sbalorditivo si sono stati 2 contro 3 1 2 e 3 e 3 mamma mia insomma lo sapevamo 3 a 0 che si è disfatta non mi immaginavo la disfatta così totale cioè veramente mamma mia mamma mia ragazza allucinante ma non li batte mo no soprattutto Dan Valentine soprattutto Dan Valentine e quel problema il problemoni no della situazione guarda anche qua mamma mia questa mossa ragazzi ha fatto non dico ha messo capo a fugare diciamo che ha distrutto l'ultime situation perché la musica l'opera 3 contro 2 e da lì diventa anche sempre molto difficile no? recuperare sì ma per ragazzi tra poco sarà il match che vedrà Axel contro Thompson con un impale il titolo global eh sì restate con noi eh sì l'ultima 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 passiamo passiamo al match più importante poi del roster di Genesis ovvero quello che mi parla il titolo global titolo global che vedrà Axel contro quest'uomo qui Michael Thompson si l'uomo che non riesce mai a vincere che anzitutto oggi ha cambiato Densonga ma poi che non riesce mai a vincere il titolo global sì vero vero in effetti eh Thompson che onestamente eh l'ultima chance l'ultima 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 io spero che venga draftato se non dovesse vincere chiaramente il titolo oggi spero che venga draftato o magari potrebbe non so buttarsi nella categoria di coppia si perché c'è c'è arrivato una c'è un email insomma sapevamo dai diciamolo dai sparano 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 voci che il fratellino Dean se non erro si si Dean Thompson dovrebbe essere tutto a posto per avere un contratto quindi probabilmente potremmo vedere il fratellino quindi potrebbe arrivare non so non so però quindi quindi magari un bel giro nella categoria di coppia col fratellino che si conoscono quindi alla fine dei coppi non è che un compagno 100 così accade assolutamente ci starebbe ci starebbe ci starebbe però io spero per lui che venga il titolo oggi sinceramente è più importante il tiro global che quello di coppia eh vabbè ovvio 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 però sappiamo che i titoli massimi non mi fanno molto d'accordo no però c'è sempre la prima volta dai su però oggi ha di fronte un Axel che veramente è forte quindi non sarà facile si è vero mamma mia guardalo lì il campione global è dura eh sì sarà molto molto dura ragazzi eh vabbè vedremo dai vedremo sarà sicuramente un match duro ecco quello del match duro sicuramente quello sicuro tante manovre brutte sporche e cattive quindi prepariamoci prepariamoci al alle mazzate al match più che dovesse diventare campione o rimanere campione ovviamente avrà contro Andy Farner eh che non è è difficilissimo da battere però beh neanche facile si è lo so però dopo Andy Turner secondo me c'è uno scoglio io lo scoglio una montagna tanto alta spero che non ci sia Dan Valentine come montagna però eh però Axel 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 è consapevole che se dovesse poi battere oggi Thompson e poi Andy Turner a quel punto non è che i lottatori sono anche hanno un numero finito non è che sono finiti eh sì oltre a quel numero finito c'è Dan Valentine e quindi Dan Valentine sicuramente un match per il tiro lo vorrà prima di Trestelmane penso sì penso di sì vabbè dopo forse dopo next city cover di Ender sì e spero spero per partner finca il titolo che se no Polacio fa una fine con Ben Valentine cioè con tutto il rispetto per Andy Turner però in effetti in effetti intanto le presentazioni davide eh in sede giapponese giappone allora le Axel col titolo global sono un po' al viola sul nero eh però vabbè dai diciamo che no dai mi piace il viola sul nero sinceramente vabbè oh dai sono gusti io il viola e nero onestamente beh però vedremo dai beh sempre sempre meglio che il viola e verde sì i viola e verde sicuramente si la possono vedere vabbè sui colori di Thompson se dovesse vincere il titolo con il viola e verde sì ma in quel caso sì sarebbe obbligatorio il viola perché insomma però un pugno un pugno all'occhio dai sì ecco un si può iniziare ragazzi può partire intanto e Thompson dove ha? non hai nessuno fare da tu non sei nessuno io ti basso sì però ci vuoi dare un po' sponibuster ehm stai meno lo sce sì in effetti mamma mia oh calcione è risolto ogni tanto dai vediamo body slam eh sì ma no se la metti sulla potenza no non va bene infatti oh niente a fare però calcione è abbastanza potentile no no è potente è potente ma non come ass ecco vabbè ovvio ovvio ovviamente mamma me lo fa correre io se fossi a far fuori le gambe uh bello le gambe ad Axel eh ma Thompson non è così strategico lo sai eh eh lo so però beh lo so pretenderò un po' troppo però ehm voglio dire Axel le gambe è alto è riuscire più intanto vediamo un po' se Thompson sposta questi umili i martelli da guerra uno due tre quattro cinque sei sette otto nove o dieci Axel vola all'esterno della ringa sì bravo Thompson guarda come si vanta come si vanta i tifosi cercano di si guarda il pollice non so il verso cercano cercano di rianimare Axel solo che sta vivendo ora come ora un brutto momento mamma mia no no uuuu calcione si Thompson panesalame oggi panesalame si mamma mia uh spezzagam e beh Thompson deve essere così unistamente tutto il rispetto buonissimo eh eh anzi togli anche il pane danni solo il sal lui sembra anche una roba brutta da dire si praticamente questo match è una rissa come ci si aspettava d'altronde dai beh sì sì in effetti molto rissa tanto rissa tantissimo con qualche manovra puramente di Vrestle però molto rissa ecco per esempio forse questa ecco forse sul ring ci sta no magari all'esterno più una rissa normale Thompson è in palla eh sembra essere in palla vediamo se stasera è la volta buono dai dai anche se oh Michael bravissimo qua liberazzi dai dai Michael pugnato se che cattivo lo prende ha riscorso ha riscorso 1 il 3 2 2 eeeh 3 grande grande il terzo anzi la terza rischerso prevede al femminile e qui attenzione perché a distanza ci sarebbe davide blocchi si però mi siamo un po' troppo proprio infatti infatti axel e vede tutto pronto pronto qui fatto una cazzata allucinante e poi mettimi il termine poi lo vuoi slam eh sì eccola lì beh match è divertente dai molto veloce 1 sì sì che fra due del genere dici veloce il capo e quindi axel ne potrebbe anche subire eh c'è un match veloce sì in effetti vediamo qui axel ora come ora sta subendo ma è reazione con un upper davide axel subisce sempre i match poi dopo alla fine di fate le quattro mosse e vince cioè così lui quindi è questo il problema che vedo che non può mai darlo per spacciato eh lo so eh lo so eh lo so purtroppo capita eh cioè fa la sfuriata finale è giocamente ognuno c'è le sue strategie poi non si può dire quindi vabbè in effetti oh oh bro kick bro kick bro kick l'ha preso non bene di più 1 2 2 no no mamma mia siamo sicuri che era un bro kick eh sì una ginocchiazza secondo me era un bro kick c'era la zona mandibolare secondo me sì non sono sicuro eh onestamente non sono molto sicuro secondo me sì secondo me sì poi vabbè oh lo rivedremo forse vedremo vedremo il reply oh mamma mia back suplex 1 1 si simile al site suplex secondo me è più back suplex forse non è riuscito a tirarlo su forse gli ha dato qualcosa in più eh perché lo vedo abbastanza sì l'adrenalina è come le bestie gli fai male cioè li fai sanguinare e tu si cazzano sì mamma mia oh wait noise for wait noise eh no vien da fare axel è pesante il tomso qui lo prende jackknife vediamo se è una podre console normale o eh no jackknife 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 eh sì eh sì ma è stanco axel eh eh però axel non va a schienare perché è abbastanza stanco il ragazzo ragazzo poi ragazzo ho spassato qualcuno oh oh jackknife mamma mia l'aspetto axel dai è finita è finita ragazzi qua eh no no invece no invece no non c'è ancora andiamo oh mamma mia eh qua ha scelto male le distanze eh le misure sì perfetto sì ha calcolato malissimo le misure direi mamma mia e questo è un segno di allarme eh per thompson sì uno sì conto di uno però sta spendendo tanto thompson sì io non capisco perché thompson è messo per i titoli massimi boh beh aspetta sta lottando bene eh per me che sì non so però andai po no lex è che potere eh sì io lo chiamo così mi piace troppo dai andate Russian Leggit sì dai 1 2 1 no 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 thompson c'è thompson c'è un match non durerà tantissimo però questi due dai stanno dando dimostrazione di essere dei veri combattenti se stanno a mena come dicono dalla tua parte sì sì a voglia mamma mia mamma mia altro spezzacollo di axel qui axel sbaglia secondo me per ricoprire le energie però sono sbaglio perché così da il tempo a thompson di riprendersi e lo va a prendere nooo la tripletta la tripletta la tripletta ce l'ha ce l'ha è finita ragazzi serve solo la terza povero axel schiena pezzi non voglio dire però thompson può vincere eh ma axel non si riazza o si? se non se thompson non fa boiate può vincere oh lo ha ghigliotinato thompson però c'è voglio dire è qui però è stato anche bravo axel che vuole andare con la btf e vuole chiudere il match così btf olé btf siiii btf no 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 sulla ferita attenzione oh eh 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 terza corte si beh terza corte sopra l'angolo uguale cambia poco no 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 oh è finita qui per michael si spengono l'interruttore le luci troppo si direi mamma mia manca la o la jackknife o la inverter o la un'altra shock slam eh si eccola qua no no thompson no 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 bellissima 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 si però gli ha rubato la mossa non era proprio simile eh però vabbè stavoli no vieni attaccione white race white race white race è finita è finita è finita mamma mia abbiamo uno campione abbiamo uno campione uno due no 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 è un incubo questo over thompson è veramente un incubo eh ragazzi è la storia di quello che arriva sempre secondo per il titolo massimo se tanto non riesce a vincere manco se gliela regala una tavola forse si forse vince sta non ci credo uno due no vabbè vai a lourde michael vai a lourde dai cioè non puoi arrivare più vicino di questo dai cioè vai a lourde c'è qualcosa che non va dai si si in effetti sembra un po' tu per lui il titolo si beh quando vincere mai un titolo mondiale faremo un grande pezzo faremo festa dai faremo festa veramente BTF e mi sa cazzo rimane campione non voglio non voglio tirare non mi sa rimane campione perché c'è no Danfrancio bombo oh bello c'è che cattivo va un po' a resistere e poi un'altra la sua forward o la jackknife o no no non riesce Thompson c'è lezione di Thompson vediamo se ce la fa calcione bro kick evitato no che succede mamma mia è riuscito a mettersi sotto al braccio di axel guardate white noise white noise white noise è finita vai con il bro kick vai con il bro kick e invece non lo so qui uno due e tre no e no e no si ti ha fatto una boiata michael bro kick è troppo vicino troppo vicino troppo vicino non lo so non ci credo non ci credo no dai uno due no 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 io me ne vado forse non gliela sta facendo scivare la centina no di più no c'è ragazzi questo match forse non è più violenti mamma mia uno due mamma mia no per più violenti non è uno dei più violenti ma c'è no se non vince oggi quando vince non so secondo me la davidabietta non vuoi far vincere lì 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 mamma mia btf è finito dai è finito basta basta thompson ci ha provato ancora una volta si ancora non ne ha abbastanza eh vuole essere certo no thompson c'è thompson c'è oh oh fu l'altro 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 prova una neckbreaker forse una neckbreaker una dvd devi attra eh ma thompson non sta in piedi eh vuole ben vedere si è beccato 52.000 manovre insieme eh fa spezzacollo amami poraccio thompson veramente una sfiga c'ha questo uomo cioè veramente con i titoli massimi era ora impressionante aaaah mamma mia è qua il match no vediamo no thompson c'è ancora andrego thompson non fare il cretino non fare il cretino eh si appunto eh forse vuole chiudere va con il camberto eh è il camberto è il camberto il camberto il camberto il camberto il camberto il tramway dai dai tu che ce lo puoi fare. no sbaglia sbaglia eh ce lo prende lo prende si però si aspetti vent'anni anche tu uompson eh è finita ragazzi uno due e tre questo è proprio cazzato la la fine è vero è vero però era anche stanco c'era ormai forse aveva capito che non c'era più nulla da fare è stato un grande match ragazzi eh si mamma mia Thompson è la maledizione dei titoli mondiali beh qua però c'è stato di fronte un grande Axel subirti tutte quelle mosse e poi rialzarti Axel è un grande match Andy Turner eh si e se dovessere Buster Turner potrebbe esserci Denna dai abbiamo capito appunto il zio Denny c'è ragazzi con questo è tutto per la terza parte ma ce ne sarà l'ultima e la più importante chiaramente eh si eh si quindi ragazzi restate con noi eh eh si mi raccomando a tra poco è un po' di ruote e un po' di ruote e un po' di ruote e un po' di ruote for the recap Un'altra 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 storia di storia.